Ciao ragazzi, grazie per l'invito, io sono Sandro Marenco, sono un mix tra Baby Boomer e Generazione X e ci siamo conosciuti probabilmente perché avete visto qualche mio video sui social e quindi siamo qua per questo. Secondo lei, perché un professore dovrebbe usare i social? Perché la scuola va svecchiata, perché la nostra generazione rispetto alla vostra hanno solo da imparare l'una dall'altra. Per cui io, diciamo così, la mia generazione ha vissuto una parte della vita in analogico e una parte della vita in digitale. Voi siete totalmente digitali e quindi io, cioè la mia generazione deve parlare il vostro linguaggio, altrimenti, soprattutto per un lavoro come il mio, che è quello di fare l'insegnante e l'educatore, non riuscirei a parlarvi. Cioè, userei un linguaggio che a voi non arriva e quindi tutto quello che io so e che posso darvi e che voglio darvi sarebbe semplicemente messo in un formato che andrebbe perso. Dall'altra parte ci siete voi, che conoscete solo la parte digitale dei rapporti, passatemi questo termine, e potete imparare da noi quali sono invece le cose belle di un rapporto analogico, no? Quindi ci deve essere questo scambio intergenerazionale. E allora, se io chiedo a voi di entrare nel mio mondo, devo prima essere io a entrare nel vostro, altrimenti è solo una richiesta che arriva dall'alto. Ma io credo sempre che nella vita, come nei social, se io ti chiedo una cosa, devo prima essere sicuro di averla fatta io con te. Quindi, per esempio, rispetto. È inutile che io chieda rispetto agli alunni se poi io non rispetto loro. La prossima domanda è una cosa... Senta, ve ne faccio una io. Posso farvi una domanda io? Prego. Secondo voi, non voglio fare una cosa personale, ma voi, alunni, vi sentite rispettati da noi prof? Guardi, io ultimamente ho fatto proprio un post su Facebook riguardo questa questione, un bel post lungo dove ho, diciamo, parlato di tutti i problemi che stiamo affrontando noi ragazzi. E devo dire che con i nostri professori ci sono lati negativi e lati positivi. E a volte la mancanza di rispetto è presente, è così, da parte loro verso di noi. Quando noi in realtà, la maggior parte delle volte, portiamo sempre rispetto verso di loro. Mi fa un po' male sentire questo, ma apprezzo la sincerità. Scusate, era una curiosità mia. Prego, prego. Qual è il rapporto con i suoi alunni nel momento tale in cui i suoi alunni hanno scoperto che lei fa i TikTok? D'imbarazzo totale da ambedue le parti. Perché all'inizio, loro mi conoscono già così. Cioè, io non è che su TikTok mi faccio vedere diverso da quello che sono. Per cui io sono il burlone, sono anche quello che sa essere serio. Cioè, anzi, io sono sempre serio. Però posso essere serioso, oppure posso essere più giocherellone. Quindi questa parte qua loro l'hanno sempre vista di me. Però vederla lì pubblicamente, dove tutti la possono vedere, è un po' come se io avessi portato un pezzo del nostro intimo alla merce di tutti. E quindi, a volte loro sì, ma non che si vergognassero di quello che io facevo, ma è un po' come se non fossero abituati a essere parte di un fenomeno più largo, che andava al di fuori della classe. Quindi, all'inizio c'è stato un po' così, adesso invece iniziano già qualcuno, che ne so, a commentare, a palesarsi come alunni, come ex alunni. Quindi, si sono un po' abituati a questa dimensione. E io anche. Lei perché ha deciso di diventare professore? Cosa è la cosa che l'ha spinta a diventare un educatore, un professore, a rapportarsi con i giovani come noi? Qua ti stupirò con effetti speciali, perché non è una scelta dettata da vocazioni o da nient'altro che la necessità. perché io facevo un lavoro con una posizione, diciamo, importante, impegnativa, diciamo così, in una multinazionale. e dopo sette, otto anni mi sono reso conto che io lavoravo e vivevo per quell'azienda, perché gli impegni, benché io facessi delle cose meravigliose, che mi soddisfacevano appieno e mi realizzavano anche tanto, non esisteva la vita di Sandro, esisteva la vita di Sandro della, il nome dell'azienda, no? Per cui ero pochissimo a casa, ero spessissimo all'estero e allora lì ho deciso di fare un salto e di lasciare questa vita del cartellino, di mettermi in proprio e ho deciso di aprire un negozio. Ma, chiaramente, poi con il negozio andava molto bene, ma, insomma, avevo bisogno di altri fondi. E quindi mi sono iscritto nelle graduatorie ed è iniziato così, scoprendo poi che io ho sempre insegnato, perché già prima di quello insegnavo italiano per stranieri all'Università di Klagenfurt, facevo i corsi serali per gli adulti, quindi ho sempre insegnato nella mia vita. Ma, diciamo, fare l'insegnante statale è nato così. Poi ho scoperto che mi piaceva molto, ho scoperto che ai ragazzi piaceva, alcuni sì, alcuni no, come è giusto che sia, no? Però poi, diciamo che l'insegnamento è diventato la parte, preponderante della mia vita. Lei prima ha citato lo svecchiamento necessario per la nostra scuola. Io volevo chiederle, qual è un altro cambiamento necessario per la scuola italiana, anche minimo, non per forza qualcosa di rivoluzionario? Allora, per quanto riguarda, ad esempio, lo studio delle lingue, io vorrei che si arrivassero alla didattica deduttiva, cioè all'insegnamento deduttivo, perché noi arriviamo storicamente da una scuola dove tutti partiamo dalla grammatica, facciamo gli esercizi, e poi il caso vuole che dopo otto anni di studio, come minimo, io mi trovo davanti a voi, che dite, ma io non riesco a parlare, non riesco a capire, mi ho paura, cioè non è diventata parte della vostra vita la seconda lingua, ma è sempre qualcosa legato a il libro, legato a fare l'esercizio, legato a fare la verifica. Un metodo più inclusivo e più deduttivo, quindi con meno grammatica, non significa toglierla, ma usare la grammatica per riuscire a comunicare, per riuscire a comunicare nella maniera giusta con il regista. È chiaro che se io parlo con la regina, non avrò lo stesso linguaggio con cui parlo ai miei amici al bar, no? Quindi creare più attinenza con la vita reale, per quello che riguarda le lingue. Molti docenti lo stanno facendo, devo essere sincero, perché i miei colleghi, ad esempio, tutti. E in generale credo che alla scuola manchi l'ascolto, cioè la scuola deve sapere ascoltare di più voi, proprio nella pratica, perché voi avete un'età, io insegno alle superiori, dove c'è un cambiamento in atto, che è epocale, cioè il cambiamento più importante che fate nella vostra vita, che non ve ne rendete neanche conto, ma da oggi a domani voi siete già diversi. E quindi avete tanti dubbi, avete tanti sogni, avete tante idee, avete anche tanti sbalzi d'umore. ascoltarvi significa, per me, ad esempio, cercare di mettere davanti a tutto questo. Cioè, io sto parlando a una persona, sto insegnando ad una persona che sta cercando di capire chi è. Quindi io devo rispettare questo momento della vostra vita, in tutto, nel darvi il buon esempio, nel rispettarvi anche, che se una mattina vi vedo che siete particolarmente sconvolti, perché a volte sono sciocchezze, no? La ragazza ha lasciato, il ragazzo non ha scritto, Crash non ha guardato, e quell'altro, eh? Cioè, capito? Cosa vado a spiegare il past perfect? Che la vostra testa è là. Io devo sapervi ascoltare. E faccio, che ne so, faccio una canzone, facciamo un po' di listening, oppure di lessico, attraverso l'utilizzo di un brano musicale, o di un telefilm, un pezzo di telefilm. E il past perfect ve lo faccio domani, intanto, quello lo devo fare, non è che posso decidere, eh no, non ho fatto il programma, perché sa, sono adolescenti, anche che è. Però, ecco, un po' più di attenzione mi piacerebbe, cioè credo sarebbe utile. Secondo lei, ci può dare qualche consiglio, può dare qualche consiglio a un liceale che ha appena intrapreso questo percorso, e chi si sta per rapportare al mondo dell'università? Allora, il consiglio che posso dare a chi, ha iniziato appena il liceo, è di lasciarsi condurre, perché il liceo è una scuola che ti permette di aprirti la mente. Per aprirti la mente, in qualche modo, deve romperla, deve rompere dei meccanismi. Ma una volta che si sono rotti, e sono momenti dolorosi, sono momenti faticosi, sono momenti anche difficili, sono momenti che poi si traducono anche in due, tre rimandati, eccetera. Ma non ha importanza, perché non è quella cosa lì che vi definisce, cioè non è un due che ti fa essere peggiore di uno che ha preso otto. Seguite il percorso, lasciatevi condurre, perché il liceo ti apre veramente la mente, ti dà la possibilità di avere una metodologia di analisi proprio della vita, che è una risorsa che vi ritroverete poi nella vita. Quindi fiducia e si va avanti. Chi per voi lascia quel mondo lì per un altro, sappiate che da adesso in poi sarete voi a gestire il vostro tempo. Non avrete più i prof che diranno Marenco, non c'eri ieri, come mai? Cioè, se tu non ci sei, forse, anche se ne accorgono, ci sarà il badge che ti dice se c'eri o non c'eri, se dovevi esserci o non dovevi esserci. Però la vita ve la gestirete voi adesso. Quindi è il momento di prendere delle piccole, grandi responsabilità. Se decidete di dare un esame, fate il possibile per dare quell'esame. E davvero non rimandate, perché altrimenti cominciate a accumulare, accumulare, accumulare le cose e poi non se ne esce più vivi. È la parte più difficile, però è anche la parte più bella, perché tu puoi decidere di studiare domani mattina dalle 11 anziché doverti svegliare alle 8 per forza. Quindi è una bellissima esperienza quella dell'università. Cosa effettivamente per lei? La felicità. Guarda, domandone da 100 milioni di dollari. Però la felicità per me è, quando vado a letto la sera, che mi sento pieno. Che mi sento di aver fatto quello che dovevo fare nel modo in cui volevo farlo. Quindi, per dirtelo in altre parole, la felicità per me è quando io posso essere me stesso, senza dover fingere, senza dover elemosinare l'attenzione, senza dover scalpitare per portare avanti un'idea. Io credo che attorniarsi di persone che ti vogliono veramente bene sia il segreto della felicità. Perché poi le cose della vita arrivano a tutti. Cioè, nel senso che non è che uno è esente dai problemi della vita. Però, se tu li vivi con quella percezione lì di aver fatto il massimo tuo, che non deve essere il massimo dell'altro o paragonato, no, 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 no. Il massimo tuo in quel momento lì. Allora lì sei felice. Almeno io lì sono felice. E poi vabbè. quando arrivano i gatti a dormire insieme a me io sono felicissimo. Allora io ringrazio tutti quelli di newsnet.it però da prof devo dirmelo. Cioè, ve l'ho ricordata almeno che news è un irregolare. Cioè, non esiste new al singolare. Quindi o una news o due news. Scusate, ve lo devo dire. Ciao!